Sull'isola di Ischia quest'oggi sono intervenuti i carabinieri del Noe di Napoli e quelli della Compagnia Ischitana per effettuare dei controlli su spiagge e lidi. I militari hanno effettuato controlli per verificare il rispetto di norme igienico-sanitarie, ma anche e soprattutto per verificare la qualità delle acque affinché esse siano balneabili. A tal proposito il sindaco del comune Forio di Ischia, Franco Reggine, è intervenuto quest'oggi con un comunicato stampa per sottolineare di come le acque di Forio risultino essere assolutamente balneabili, secondo anche le ultime analisi che sono state proprio effettuate dall'ARPAC, relative al periodo tra il 6 e il 9 luglio e i cui risultati sarebbero giunti in comune a Forio lo scorso 20 luglio. Il sindaco interviene al seguito delle numerose disdette pervenute nelle ultime ore alle attività alberghiere e alle case private da parte dei turisti, che risulterebbero essere spaventati per la notizia diffusa nelle ultime ore da parte della Capitaneria di Porto di Ischia circa la non balneabilità delle acque di Forio, ovvero la presenza di elementi inquinanti. Così è intervenuto il sindaco Reggine. In ordine alle ultime vicende relative alle condizioni di salute del mare e delle spiagge di Forio e in relazione all'ingiustificata diffusione di notizie da parte della Capitaneria di Porto del tutto fuori avanti e che creano un ingiustificato allarmismo tra residenti e turisti, queste notizie è bene sottolineare come siano state smentite dalle ultime analisi ARPAC, comunicate e diffuse a mezzo di comunicati stampa. Si comunica che il sindaco Franco Reggine ha chiesto informazioni al fine di verificare la regolarità di operazioni di scarico nelle acque riflui del mare ad un chilometro di distanza dal porto di Forio ed eventuali responsabilità in merito alla notizia diffusa relativa al superamento dei livelli di guardia per la presenza di elementi inquinanti nel mese di maggio. In particolare si è chiesto all'EVSPA quali interventi siano stati attivati a seguito della diffusione dei risultati di dette analisi relative alla condotta sottomarina. Il tutto si richiede per garantire il comune di Forio contro il grave danno all'immagine subito, nonché per preservare l'incolumità e la salute dei bagnanti presenti sulle spiagge di Forio ed Ischia.